Non sei contento che siamo usciti di casa e siamo scesi in città per un po' di cultura? Eh, stanno maciullando i classici. Era meglio che quel fagotto avesse fatto fagotto. Oh dai, Homer, ci sono i laser. A te piacciono i laser. Gli effetti laser, le palle a specchio. Sicuramente John Williams si starà rivoltando nella tomba. Deliziosamente satirico. Chissà se qualcun altro l'ha capito. Forza, andiamo, Gene Cara?